Ciao a tutti, noi siamo in Ina, ringraziamo il proposito per averci nominato, anche noi vogliamo partecipare a questa iniziativa. Sotto al video troverete tutti i link necessari per avere informazioni in merito a Giovanni Andrea Chessa, questo bambino sardo ammalato di leucemia che ha bisogno di un trapianto. Anche noi vogliamo partecipare dedicandogli questa versione in acustico di Bushido. A nostra volta nominiamo quattro gruppi anziché tre, così da poter divulgare ulteriormente, diciamo, il messaggio. We're all to blame e i Dance with the Bear, Iwana e i Gokuala. Questo è per te. a feeling that I've never felt before. Flowers motionless, the ones that fall on the ground, don't breathe. Like a drop of dew, the will be gone. Cold and dear, it's for us. This is Bushido keeps spurring to running low. You run dry, there's no ghost. Your run dry, there's no ghost. A feeling that I've never Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!